Ti do il benvenuto nella sessione dedicata alla respirazione di qualità. Sono Laura Pirotta e ti accompagnerò in questo percorso di consapevolezza del tuo respiro. Prima di iniziare assicurati di avere i requisiti giusti per poter praticare l'esercizio che faremo insieme. Innanzitutto trova un luogo tranquillo e rilassato, possibilmente senza rumori ambientali di sottofondo. Indossa vestiti comodi e larghi, estraiati sopino sul letto oppure per terra su un tappetino da palestra. Quello che consiglio è di mettere un piccolo cuscino o un asciugamano arrotolato sotto le ginocchia e nella curva della zona lombare in modo da stare in una posizione il più possibile rilassata. Adesso sei pronto per iniziare. Se vuoi puoi chiudere gli occhi. inizi a prendere contatto con il tuo corpo e con le sensazioni che arrivano dal tuo corpo. Sposta la tua attenzione sul flusso naturale del tuo respiro. Quando ispiri la tua pancia si gonfia. quando ispiri la tua pancia si gonfia lentamente. Se vuoi puoi mettere le tue mani sulla tua pancia per seguire il movimento del respiro. Quando ispiri la tua pancia si gonfia. Quando ispiri la tua pancia si sgonfia lentamente. La tua respirazione è completamente naturale. Avviene senza nessuno sforzo seguendo il flusso naturale del tuo corpo. L'aria entra dal naso, passa attraverso la tua gola e scende ai tuoi polmoni. La tua pancia si gonfia. Hai ispirato aria dall'esterno. Ora la tua pancia si inizia a contrarre. La tua bocca si apre leggermente per far uscire lentamente l'aria. Hai ispirato aria dall'interno del tuo corpo. Prendi consapevolezza del tuo respiro, dell'ispirazione e dell'espirazione. Della pausa che c'è tra la tua ispirazione e la tua espirazione. Rimani in ascolto del tuo respiro. Se alcuni pensieri riempiono la tua mente rifocalizzati semplicemente sul tuo respiro lasciando fluire all'esterno di te insieme all'aria che stai ispirando tutti i pensieri che avevano riempito la tua mente. Ora puoi rifocalizzarti sulla tua respirazione. Inspira, prendi aria. Ispira, butta fuori. Ora dia a te stesso. Sono completamente calmo e rilassato. Il mio respiro è dolce e rilassato. Come le onde del mare. Inspiro, entra l'ossigeno nel mio corpo. Espiro, esce l'ossigeno nel mio corpo. Il mio corpo riceve l'ossigeno di cui ha bisogno e si sente rilassato e rigenerato. Rimani concentrato sul tuo respiro che ti gulla dolcemente come le onde del mare. Inspira. Espira. Lentamente apri gli occhi e rimani in contatto con il tuo corpo e con le sensazioni che il tuo corpo ti ha regalato. Rimani rilassato lì dove sei per qualche minuto e goditi il momento presente. Lentamente apri gli occhi e rimani in contatto con il tuo corpo. Lentamente apri gli occhi e rimani in contatto con il tuo corpo. Grazie a tutti.